Luca ci spieghi il perché di questa sciarpa, cosa ti è successo? Ti è cambiato un po' la vita quest'estate o sbaglio? È successo che il presidente della palacanestro Forlì, Juventino Sfegatato, ha deciso di chiamarmi in società facendo questa pazzia, e quando mi ha chiamato gli ho detto ma proprio lei che è Juventino Sfegatato ha deciso di chiamarmi in società, lui ha detto di sì, ha preso questa decisione coraggiosa e adesso mi occupo dei social della palacanestro Forlì, che è la squadra di palacanestro della mia città Che tra l'altro Forlì è un'istituzione, la palacanestro Forlì è il più sport Diciamo che la provincia di Forlì-Cesena sportivamente parlando è Cesena al calcio, Forlì-Fasco C'è grande passione E come va? Raccontaci un po' di questo primo impatto, cosa succederà? Visto che dei video tra l'altro bellissimi, andate a vedere della campagna abbonamenti in cui Luca viene malmenato un po' da tutti i giocatori piuttosto corpulenti della palacanestro Forlì Giusto? Ma il precampionato fino ad adesso è andato bene, abbiamo fatto ultimamente delle amichevoli con delle squadre nostre pari categoria, abbiamo vinto contro Treviso, squadra storica Eh sì Abbiamo vinto contro Imola, a fine settimana avremo un quadrangolare con Udine, Ferrara e Trieste Stiamo andando molto bene con gli abbonamenti, oltre 1.600 tessere, sicuramente ripeteremo i numeri dell'anno scorso Supereremo sicuramente 2.000 abbonamenti Forlì è una città che porta al palazzo mediamente 3.000-3.500 spettatori a partita E diciamo che l'anno scorso ha fatto un campionato dove si è salvata all'ultima giornata Se andassimo un pochino meglio quest'anno, farne 4.000, secondo me ce la facciamo E noi ve lo auguriamo naturalmente in bocca al lupo a Luca, alla palacanestro Forlì Tutta la città in generale per questa sfida sportiva che naturalmente noi seguiremo da vicino come Calcissimo TV Luca, grazie E noi vi ringraziamo di questo spazio Ci mancherebbe, grazie a te naturalmente Un abbraccio da parte di tutti Ciao Luca, ciao Ciao ragazzi, ciao